sono tiziana e mi occupo della ricerca dei prodotti e della creazione delle linee va garden nonché della formazione dei nostri makeup artist la ricerca parte sempre dalle tendenze moda la nostra esigenza è di avere sempre una gamma completa di prodotti al top della qualità e facilmente vendibili in questa collezione particolarmente solare ho inserito dei prodotti occhi labbra viso mani per gli occhi ho voluto due ombretti di cui uno glaring che ha la caratteristica di essere ad azione liftante sulla palpebra nel color rame in abbinamento ad un celestial bronzo dorato per poter giocare con effetti di luminosità su pelli ambrate e abbronzate ma anche su pelli chiare per la tendenza che la moda propone in abbinamento agli ombretti consigliamo l'eyeliner marrone che è anche waterproof e va benissimo per il mare per le labbra ho voluto dei toni decisi di rossetti in excess tre colori di arancio grenadine che stiamo vedendo sulle labbra di notti personaggi televisivi oltre che nella moda la mattita dall'estrema tenuta numero 760 dal colore naturale leggermente aranciato è consigliabile per il contorno delle labbra che si abbina benissimo ai tre rossetti della collezione ma non solo a questi per il viso un nuovo colore di fondotinta bronzer utile e assolutamente indispensabile per uniformare le tonalità di pelle abbronzate un nuovo colore aranciato di smart blush il blush che in crema facile da applicare perché leggermente polveroso inoltre due ciabbi xxl uno perli e uno dorato lo stick che è pratico per creare punti luce sul viso e sul corpo per le mani ho inserito due nuovi colori smalto il rosso aranciato o grenadine e white snow il bianco puro questo anche per uso french oppure per scalare di toni colori decisi al fine di realizzare una scala cromatica come la moda propone il pennello piatto facilita l'applicazione ricordo che gli smalti sono senza toluene formaldeide dbp e canfora e possono essere utilizzati anche dalle donne in gravidanza e dalle teenager sono sea water resistant e questo garantisce l'estrema tenuta anche all'acqua di mare per l'immagine della collezione ho realizzato sulla modella un trucco nei colori del rame bronzo che appare luminoso e naturale per mettere maggiormente in evidenza le labbra con questi nuovi colori solari decisi e glamour la modella ha delle sopracciglia ben disegnate e delineate con la matita numero 82 questa matita la ripresentiamo con questa collezione ma è presente anche in gamma sono salvatore e mi occupo della direzione creativa e dell'immagine da garden in questa occasione vi mostrerò la ricerca fatta per il concept hyper orange nella prima slide una serie di immagini che in qualche modo iniziano già ad esprimere il concetto di hyper orange immagini che sottolineano il concetto appunto di energetico di movimento di pool ma anche di design sono tutte immagini d'archivio che mi hanno ispirato che mi hanno poi portato appunto alla costruzione del concept e dell'immagine hyper orange in questa tavola una serie di immagini sottolineano quella che è la tendenza della primavera estate 2014 cioè le labbra arancio un colore che in qualche modo tende ad emergere un colore molto vibrante e molto eccentrico che abbiamo volutamente smorzato con un'immagine invece più minimalista nella costruzione del design del make up quella che emerge protagonista sicuramente è la bocca labbra particolarmente sacro e con un colore vibrante appunto che è l'arancio e con uno sguardo invece tenuto volutamente luminoso con un ombretto ramato e sopracciglia ultra definite a incornicere allo sguardo sicuramente importante e gioca anche il suo ruolo è la scelta di utilizzare il chubby xxl come illuminante per un incarnato radioso personalmente ho pensato questa collezione per una donna new classi molto sicura di sé ma anche molto glamour consiglio all'arancio perché può diventare molto effervescente se abbinato ad un look minimal mentre molto magnetico se abbinato un look più glamour più strong ma sicuramente a hyper orange resta il segreto per un look perfetto in qualsiasi occasione grazie a tutti grazie a tutti